Sono Marco Borzino, partner di Hiker Research. Hiker Research è una società nata nel 2006 che si occupa di Business Intelligence. Siamo una società di Torino innovativa. La Business Intelligence è quella sorta di software gestionali che consentono l'analisi di dati di ogni tipo, senza tempo di attesa e con la massima flessibilità per l'utente finale. Il nostro software consente di analizzare dati che provengono dalle vendite, dal marketing, analisi, quindi dati commerciali, piuttosto che finanziari. Operiamo tantissimo con le istituzioni bancarie, assicurazioni. Siamo praticamente competitor di società colosso mondiali, per esempio SAP Business Object e IBM Cognos. Oltretutto noi tentiamo di fare concorrenza anche agli spreadsheet, quindi è il semplice foglio di lavoro che utilizziamo quotidianamente. Il nostro prodotto, Limit Enterprise, consente di automaticamente esaminare i dati consultivo che ci permendono durante la notte dalla rete di vendita con i dati di budget. Il nostro prodotto ha un mercato notevole, un mercato di nicchia, però notevole, perché abbiamo clienti molto grossi, come ad esempio a Monta di Paschi di Siena, Reale Mutua, Porsche Italia. La tecnologia Limit è stata venduta anche a Ferrero International, a Levi's. Quindi siamo una società giovane che però ha realizzato un prodotto, crediamo, assolutamente innovativo. Prodotto che piace a tal punto che siamo stati selezionati dal Ministero del Commercio Estero giapponese e invitati a Tokyo per partecipare a incontri con distributori, value added reseller locali. Quindi stiamo pensando di far crescere la nostra azienda in Italia e sul mercato giapponese grazie a queste opportunità che ci vengono date e anche in Stati Uniti. Infatti la UCLA, l'University of California, Los Angeles, in particolare la Anderson School of Business ci ha selezionati tra le società più innovative e quindi ci stanno realizzando un business plan gratuito della durata di sei mesi, andremo adesso per Natale per la consegna finale del progetto. Pensiamo che questo dia un'estrema visibilità alla nostra azienda. Siamo contenti di essere qua invitati da Aster, tra altre aziende innovative del territorio italiano e quindi pensiamo che in effetti questo genere di attività sia fondamentale per far crescere la società come la nostra. Il nostro prodotto Lilith può essere utilizzato come piattaforma di sviluppo per ogni tipo di applicazione aziendale quindi può essere utilizzato per ogni IRP, IRP è il sistema gestionale in uso in azienda che prende i dati dall'ufficio vendita, dall'ufficio commerciale, dalla fatturazione. Noi automaticamente siamo in grado di prendere i dati da qualsiasi sorgente che sia a tabelli di Excel, sia dal SAP, sia da ogni tipo di altro gestionale e riusciamo quindi a fare cruscotti decisionali che possono essere customizzati senza veramente alcuno sforzo da parte dell'avversatore delegato, del controller, del direttore in generale, del decisore. Grazie a tutti.